eccomi 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 buonasera amici e amiche rosso neri ragazzuoli e ragazzuole belle come sempre come sempre vi abbraccio tutti allora ragazzi e ragazze spero che state tutti bene spero che seguiate le notizie sul milan e su quello che succede nel calcio mercato in generale nel calcio che conta cioè in europa ieri la nation league si è conclusa disfatta clamorosa dell'italia contro la germania ragazzi io sono stato un po dispiaciuto davo ragione a chi commentava la partita ieri sulla rai che giustamente anche per gli italiani che vivevano in germania oggi non deve essere stata una buona giornata ma comunque sempre forza e coraggio ragazzi perché il futuro per il nostro milan è splendido ma anche la nazionale ritornerà più forte che mai allora partiamo razzo avete visto in copertina renato sanchez in in grande poi junior messias che fa così e vai forza e sven bootman come al solito la sven bootman telenovela che sia chiaro allora ragazzi vi devo dare subito faccio subito una prefazione per queste notizie però correlata proprio strettamente queste notizie perché la sven bootman telenovela sopra opera storie e va bene renato sanchez un po di meno ma sven bootman perché ragazzi la sappiamo già ho fatto un video posto pochi giorni fa sulla questione societaria dell'il cioè la proprietà contro il suo consiglio di amministrazione perché il consiglio di amministrazione dell'il losc in francia vuole vendere i giocatori entro la fine di questo mese di giugno invece la nuova proprietà vuole farlo dal primo di luglio in poi vi dico subito che è una questione che non c'entra niente con il milan ma anche il milan e altri club italiani juventus e inter anzi l'inter no ha un discorso un attimino diverso vorrebbero fare per motivi fiscali dal primo luglio comunque il discorso dell'il losc è interno alla società proprietà contro consiglio di amministrazione con a capo il suo amministratore delegato su questa questione non c'è ancora nulla di chiaro ma tutto avverrà vedrete sicuramente dai primi di luglio se non la fine sto mese se non è zuppa e pan bagnato il discorso è questo si è venuto a sapere ieri sera e questa è una bella notizia che il lil non verrà sanzionato dall organo di controllo francese sui conti dei club di calcio in francia nella ligana e quant'altro anche nelle altre serie del calcio francese per cui insomma l'il losc non va incontro a nessuna sanzione libero di fare quel caldo che vuole devono solo risolvere questo dissidio e basta però avete ho messo la copertina nella copertina renato sanchez in grande perché il milan sta per chiudere l'operazione renato sanchez uno spettacolo ragazzi questo giocatore è un fuoriclasse questo è un fuoriclasse lo vedrete lo vedrete è un fuoriclasse allora le cifre di operazione perché qui ho preparato tutta la mia scaletta stampata con la mia bellissima stampante laser hp in jet faccio pure la pubblicità l'hp che manco mi paga però l'operazione si conclude praticamente a 18 milioni di euro che sono complessivi dei bonus perché esattamente l'operazione è questa renato sanchez 15 milioni di euro più bonus 18 a ragazzo viene proposto 3 milioni 200 mila euro netti più bonus per arrivare a 4 netti il beneficio del decreto crescita siamo su una cifra spettacolare tutto è spettacolare perché l'abbiamo pagato molto di meno quello di quello che era stato preventivato cioè i tempi 25 milioni di euro è uno spettacolo ragazzi ma che affari che sa fare il nostro milan e maldini maldini lo ripeto per la centesima volta capitano maldini ha imparato bene da elliot ha imparato bene da elliot e sì 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 perché per trattare quei conti non è cosa facile fidatevi vincere in più spendere di meno è una cosa fenomenale da dirigenze top level altro che scecchi che questi stanno a vincere solo i campionati dei propri continenti ma poi c'è più slig una mazza a pesci in faccia poi vedremo l'anno prossimo quando la fine della storia avete visto come ho detto prima messias più in piccolo junior messias è stato riscattato dal nostro milan hanno concluso oggi l'operazione maldini massara con il crotone anzi più esattamente maldini con il crotone un anno fa erano stati preventivati per il riscatto di messias 8 milioni di euro compreso compreso il prestito adesso invece compreso il prestito 4 milioni e mezzo di euro è uno spettacolo ragazzi però vi do una chicchetta che nessuno vi dice allora la chicchetta questa non iniziate a fare i melodrammatici a me sinceramente dispiacerà per una questione affettiva visto che ibraimovic nel pullman dopo la vittoria dello scudetto l'ha usannato perché se lo merita visto che junior messias rimane al milan è stato riscattato 4 milioni e mezzo di euro alexis salesmaker se ne andrà ragazzi perché quella parte quella porzione di campo del nostro milan sarà affollata perché vi dico questo perché paolo maldini vuole a tutti i costi de keteler comunque in generale più che paolo maldini perché paolo maldini è amante di zagnolo massara moccada che contagiano anche maldini perché loro sono specializzati sul settore francia e tutto il resto vogliono a tutti i costi de keteler un fuoriclasse comunque che sta crescendo dai ragazzi parliamoci molto chiaramente de keteler è forte a mentalità a educazione a livello morale che è quello che conta oltre che la tecnica e tutto il resto poi giovanissimo 21 anni ascoltatemi lo ripeto messias è stato riscattato oggi cosa facciamo messias salesmaker de keteler no non è possibile vedrete che salesmaker se ne andrà questa è la chicchetta saltiamo la questione sven butman sopra opera history story mettetela come cavolo volete allora oggi si viene a sapere che sven butman non ha mai detto di no al newcastle ha detto solo una cosa oggi sven butman e lo si è saputo io mi sono informato molto su questa notizia ed è confermata lui ripeto non ha detto di no al newcastle ha detto quando il milan ti chiama non si può rifiutare che cosa ben diversa poi la differenza di pagamento del cartellino di sven butman è solo di 5 milioni di euro rispetto agli sceicconi di pif dell'arabbia esaudita si pensava che questi quanti lasciano fuori chissà che cavolo il lille ha giocato un po non poco in modo pulitissimo perché voleva un'asta a tutti i costi e non ci ha fatto una bellissima figura lille los che diciamoci la verità però la volontà di butman è chiara ve lo ripeto per la centesima volta sono i giocatori la loro parola è quella che conta quella del giocatore la volontà del giocatore sven butman oggi ha fatto sapere venuto fuori questa notizia che comunque a mio modo di vedere abbastanza clamorosa non la leggete a titolori ma ve la sto dicendo e credetemi che al milan non si può dire di no cosa vuol dire questo il milan offre 30 milioni di euro più bonus il praticamente newcastle offre 40 5 milioni di euro di differenza sven butman arriverà da noi a luglio qui se ne riparla luglio ragazzi qualcuno di voi caldeggiava il fatto che marco sensio doveva deve venire al milan allora io ho sempre detto che marco sensio ha fatto un pochettino il furbetto per rimanere al madrid oppure andare in inghilterra e la notizia di oggi è questa allora sentite questa questo a me questi giochi non sono mai piaciuti adesso io qui non voglio tirare una stoccata carlo ancelotti però il fatto che carlo ancelotti abbia sentito telefonicamente non so se la sapete la storia per assenzio maldini dicendo vabbè se lo vuoi prendere prendilo pure non c'è problema per me a me questa cosa non è che mi piace molto che lui ha nel milan nel cuore carlo ancelotti ha fatto la storia del nostro mina però io ve l'ho sempre detto lui ormai è sposato con real madrid da un pezzo e fa gli interessi del madrid con questo non sto andando a intendere niente a carlo ancelotti però parliamoci molto chiaramente vi ho sempre detto che assenzio sta giocando sporco oggi arriva la proposta ufficiale di rinnovo di contratto ad assenzio da parte del real madrid però real madrid ha posto una condizione bene volete assenzio voi del milan visto che carlo ancelotti ha sentito maldini al telefono dovete tirare fuori 40 milioni di euro sapete voi del real madrid cosa vi dico io simpaticamente lo faccio sotto lo schermo così non mi vedete faccio il gesto dell'ombrello a voi del real madrid te te e te allora a chi mi vuole credere bene chi non mi vuole credere io sono uno che parla fuori i denti non sono uno che ci gira intorno non sono uno che dice cose senza senso senza una logica io dico cose con logica il real madrid può andare simpaticamente a quel paese chiaro quel concetto questi hanno il dente avvelenato per teo hernandez florentino perez non ci può pensare altro che sono contento che il milan è tornato e buonanotte va bene dai allora ragazzi poi concludo con questa notizia generica poi vi saluto la figc fa ricorso contro la decisione di eliminare il criterio valido per iscriversi al campionato di ieri per iscriversi alla lega di serie a perché la figc non lo trova giusto che è stato eliminato il criterio ieri dalla dal collegio di garanzia del coni per cui fa ricorso ancora il collegio di garanzia perché vuole imporre l'indice di liquidità ai club che si iscrivono al serie a vi saluto vi mando un abbraccio forza milan sempre comunque ovunque è uno spettacolo ciao ciao